Te lo chiedo per favore, potresti fare un mini quadro del Re Leone che si illumina il buio che tra sta foto? Akuna Matata! Dopo non si sa quante centinaia di volte mi è stato chiesto, ecco qua un simpatico mini quadro del Re Leone. Ero indeciso se farlo con un'atmosfera diurna o notturna, ma in seguito ad un sondaggio avete scelto notturna. E ancora, ero indeciso se farlo con Simba in età adulta o Cuzzolo, e in seguito ad un altro sondaggio avete scelto Simba Cuzzolo. Ma non solo, perché il tutto si trova all'interno di una silhouette di Simba adulto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E ricordo che sul mio store è disponibile anche un altro modello di quadro del Re Leone più grande e un po' più impegnativo. Proprio questo. Per tutti i quadri trovate il link in bio. E intanto, guardate qua che carino.